Noi non ci conosciamo nemmeno, ma per qualche motivo... ...eravamo tutti nello stesso posto quando Billy ha trovato le monete. Non ti senti strano? Siamo forti. La risposta a quanto vi sta succedendo è qui. Voi cinque siete i Power Rangers. Lei è il male in persona. Distruggerà ogni cosa. E come pensi che la fermeremo? Trasformazione. Questo è il vostro destino. Cominciamo! Via! Questo è il vostro momento. C'è il vostro momento!